Musica Benvenuti a un nuovo appuntamento in cui andremo alla ricerca di messaggi, di parole, di speranza, delle briciole di pane che ci possano accompagnare nella vita di tutti i giorni, insieme a fratello Francesco Zambotti, sacerdote. Bentrovato? Bentrovati a tutti voi. Lo ricordiamo, è lo storico fondatore delle Tende di Cristo, che sono comunità ormai diffuse non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, in cui vengono accolte numerose persone con diversi tipi di problematiche, di difficoltà e anche di povertà, possiamo dire. Sì, grande povertà spirituale, psicologica, umana e fisica anche, per esempio l'altro ieri mi hanno informato che a Fortaleza abbiamo preso un altro bambino di sei anni, però non non so il perché, perché non mi è stato ancora riferito, scritto, ma sei anni, tolto quindi dalla famiglia, non so le problematiche e quindi l'abbiamo accolto nella nostra comunità per noi, per me è sempre un dono quando arriva specialmente i bambini. Perché capita che anche i più piccoli soffrano per tanti motivi, sia in Brasile sia in Messico. Sì, anche nel Messico abbiamo delle situazioni veramente difficili, malati di AIDS, situazioni veramente incresciose dove anche la fantasia più forte a volte non riesce ad immaginare e noi troviamo questa dimensione qui e quindi anche un possibile aiuto, diciamo così, che potrebbe arrivare per darci una mano a noi sarebbe una cosa molto utile e molto necessaria. Non lo chiedo mai perché è lo spirito poi che dà l'input delle persone buone, dal cuore buono a dare o una preghiera, che è la moneta più importante, oppure anche un piccolo aiuto di sostegno economico con il quale noi possiamo arrivare a fare tante cose molto belle. Ogni tipo di sostegno naturalmente può essere importante, così come diventano importanti le parole, i messaggi di cui andiamo alla ricerca? Sì, anche le parole diciamo così sono parte della nostra espressione e quindi è bello poter comunicare magari senza il telefonino o relativo al telefonino perché ormai non si comunica più niente, si comunica col proprio orgoglio, con le proprie tante piccole cose che a volte sembra che siano per di tempo, mi pare così, per quel che io vedo. Io il telefonino non ce l'ho e mi va bene così perché riesco a comunicare al modo mio, qualche volta occorre, è necessario, ma poi il resto penso di trovare maniere diverse per dire alla persona che li vogliamo bene. Però così si può restare in contatto diciamo? Sì, in contatto, ma il vero contatto non lo so dire, esprimere perché non sono avezzo a questa cosa qui. Certo, la tecnologia va avanti e ha una sua collocazione nell'informazione, non si può sostituire questo, però può essere anche un po' bisogna trovare una, diciamo così, uno spazio magari un po' più ridotto perché altrimenti tutto va un po' come una goccia che si immerge nel mare, poi non si trova più, insomma. La giusta misura, la giusta dose? Sì, penso di sì. Quello che vedete nelle mie mani è un libretto che raccoglie le poesie, le preghiere, gli scritti di padre Francesco raccolti qualche anno fa, accompagnati anche dalle riproduzioni degli acquerelli di Ida Tentolini in cui sono annotati pensieri che sgorgano, che sono sgorgati in realtà nei momenti più diversi della giornata ma forse ce n'è qualcuno in particolare in cui arrivano più spesso che noi spesso utilizziamo, a cui facciamo riferimento proprio per andare alla ricerca di quei messaggi di cui parlavamo. Ne leggiamo uno insieme. Silenzio nel silenzio. Oggi non ho sentito i tuoi passi, signore. Silenzio d'attesa fino a quando il chiacchierio delle foglie dirà la tua presenza, il tuo calore. Sì, a volte mi pare molto bello riuscire a collocare un concetto che ho nella testa, nella mia testolina e forse qui è proprio un caso dove si è verificato un po' questo. Silenzio nel silenzio, altrimenti come si potrebbe dire silenzissimo, ma non ha senso, non sta in piedi la cosa. Però silenzio nel silenzio vuol dire che il silenzio ha una sua profondità e questa profondità va a sostituire anche le parole, tanto per stare nella premessa che abbiamo fatto prima parlando della comunicazione. Si può comunicare nel silenzio molto di più di quel che possono, perché le parole spesso sono molto relative e non riescono a tradurre certi sentimenti che sono dentro di noi, il silenzio invece riesce a tradurre. Almeno questo senz'altro nella comunione con Dio, per esempio la preghiera contemplativa, preghiera contemplativa dove il silenzio, vive nel silenzio, è qualcosa di straordinario, di bello, perché non c'è bisogno di dire determinate parole, ho troppe parole. Oggi, qui scrivevo, oggi non ho sentito i tuoi passi signore, quasi a domandarmi ma come mai non ho sentito i tuoi passi? Che è un modo di dire certamente, penso che sia molto comprensibile, non ho sentito i tuoi passi, forse perché c'era troppo rumore dentro di me, forse perché non sono stato tanto attento, forse perché mi sono occupato di tante cose che non servono. Allora quasi mi domando con queste frasi brevissime, forse sono io, non li ho sentiti perché non sono stato così attento tanto da poter sentire questi passi del Signore. Uno potrebbe anche dire ma che passi, ma che cosa dici? Dio non è che fa un cammino dove senti il corso dei passi, eppure io dico sì, non è una cosa che si ode con l'orecchio, ma con una presenza profonda dello Spirito Santo che è dentro alla persona che tenta di percepire questa presenza del Signore. Silenzio è un valore, un silenzio d'attesa fino a quando il chiacchierio delle foglie dirà la tua presenza, il tuo calore. Ecco quindi un silenzio d'attesa che adopera perfino i piccoli rumori di una foglia che cade, che si stacca dal ramo e quasi c'è un rumore impercettibile, c'è, perché almeno penso che chi si pone in una certa attenzione, specialmente da autunno, si sente questo rumore quasi, è impercettibile diciamo, fino a quando il chiacchierio delle varie foglie che staccano perché è finito il tempo dell'atteso sull'albero, passano a terra per attendere il passo non di Dio, ma il passo dell'uomo nel quale ci può essere anche Dio e quindi le foglie dirà la tua presenza e anche il tuo calore perché Dio lo possiamo esprimere anche come questa presenza, come calore, il cuore che batte di più, un dolore al cuore che parla e esprime una presenza che può essere percepita proprio in questa maniera, in questo modo. Poi ognuno, diciamo così, può percepire questa cosa come un dono, come una grazia, come un'opportunità per dire ringraziare il Signore, eccetera, ognuno interpreta poi questa forza che sente dentro e quindi c'è come un calore, un calore che non è un calore umano ma un calore delle persone, della persona che si sente comunque amata. Grazie come sempre a Padre Francesco, grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e arrivederci. Arrivederci.